In breve La consulta europea presieduta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Boniperti si è riunita per decidere gli appuntamenti dei prossimi mesi. A ottobre il seminario di Bardonecchia, organizzato dal Movimento Federalista. In autunno l'ultimo viaggio di studio per gli studenti vincitori del concorso a Berlino e un incontro con i parlamentari europei. A novembre un convegno con le organizzazioni sindacali sulla macro-regione alpina.